Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era, e cosa dura, questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò. Abbiamo scelto questa location impervia per presentare il nostro video ispirato all'inferno dantesco. Come molti di voi sapranno, quest'anno si festeggia nei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il sommo poeta, e quindi anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo alla sua immensa opera. L'abbiamo fatto attraverso un video che è stato in qualche modo ispirato da un progetto che è nato a Torino. In realtà poi ha avuto una battuta d'arresto in seguito ai problemi legati al Covid, ma noi abbiamo deciso comunque di condividere questo video a cui abbiamo veramente creduto molto e per cui abbiamo impiegato parecchie energie. Questo progetto è stato una sfida per molteplici fattori. In primis il tempo che ci è stato dato a disposizione per realizzarlo, che era un tempo che variava dalle 3 al massimo 4 settimane. Poi era il tempo di durata del video che non doveva superare inizialmente i 2-3 minuti, poi si sono leggermente allargati e ci hanno concesso i 4-4 minuti e mezzo. L'altra sfida era quella di riuscire a descrivere tutto l'inferno che Dante Alighieri ha raccontato all'interno della sua Divina Commedia in quel lasso di tempo veramente brevissimo. Tutto questo chiaramente con un'interpretazione contemporanea dell'inferno dantesco e l'ulteriore sfida, quella che in qualche modo ci ha messo di più in difficoltà, era il fatto di dover rispettare le normative anti-Covid che in quel momento erano vigenti. Sì, perché il video è stato girato chiaramente attorno a marzo e noi si usciva e si entrava dalle varie zone gialle e zone rosse. La location che abbiamo scelto è il vecchio forno di Cuccaro Monferrato, che è una location molto affascinante, sono le cantine in qualche modo del vecchio forno con queste pareti in tufo e quindi un'atmosfera che ci sembrava adatta all'inferno dantesco. Questo progetto è stato realizzato da una collaborazione tra me e l'amica fotografa Ambra Pegorari e infatti vedrete che all'interno del video ci saranno diverse piccole performance mie intervallate da delle immagini di Ambra Pegorari. Ambra Pegorari lavora con una tecnica che ora vi spiegherà. Che tecnica usi, Ambra? Allora, per questo progetto mi sono concentrata sulla tecnica dell'esposizione multipla, per cui ho unito diversi scatti in uno e ho preso ispirazione da scatti effettuati durante i miei viaggi in giro per il mondo e a qualche mio progetto personale che ho cercato di far diventare proprio una location infernale. Quindi ho unito più scatti in uno per rendere il tutto un po' più particolare. Bene. Un altro nostro collaboratore è Enrico Valecchi, proprio di Monferrato Web TV, che vediamo nascosto dietro la videocamera in questo momento. Per ovvi motivi Enrico si è occupato di tutta la parte delle riprese video, tranne dei piccoli contributi che sono stati girati con un semplice cellulare. Altri due nostri collaboratori sono stati per il montaggio Pierluigi Marchese e Antonio Portaro. Una chicca di questo video è l'inserimento di alcune immagini del maestro Enrico Colombotto Rosso che ci sono state gentilmente concesse dal Museo di Pontestura. Un'altra opera che vedrete all'interno del video è una mia installazione ispirata al celebre dipinto del Botticelli. E poi un'altra installazione che partirà da un'immagine che Ambra Pegorari ha elaborato, del pianeta che brucia, ma termina in realtà con un pianeta fiorito, perché vuole essere un messaggio comunque di speranza e di fiducia. Vorrei darvi una piccola chiave di lettura per comprendere il video. In qualche modo abbiamo pensato con Ambra di interpretare una sorta di moderno lucifero che attraversando il suo inferno man mano si rendeva conto di ciò che aveva creato e verso la fine c'è una sorta di redenzione che è un po' quello che dovremmo auspicare per tutti noi. E quindi speriamo di avere un'altra opportunità per avere chiaramente un futuro migliore. Per vedere il video in versione integrale vi invitiamo a visitare il canale YouTube di Monferrato Web TV.